Avvocato Muzzopà, per il centro, per chi ha deciso di votare? Il centro ha deciso di votare e lo ha deciso in maniera compatta. Certo, io quello che posso dire in questa sede è che invito espressamente tutti i cittadini, le elettrici e gli elettori che ci hanno dato fiducia nel primo turno di votare Enzo Romeo. Ma perché noi siamo alternativi in verità, tanto al centro-destra quanto al centro-sinistra. Però visto che auspichiamo un cambiamento, diciamo che in questo momento Muzzopappa indisparte, l'unico che rappresenta un cambiamento è Romeo in verità. Vedremo poi se dovesse vincere quanto sarà affidabile, quanto questo cambiamento potrà dirsi concreto. Però non v'è dubbio che in questo momento il mio invito è perché si voti Enzo Romeo. Perché le voci che circolano dicono invece che appoggiate il centro-destra? Guardi, bisognerebbe fare un'indagine, bisognerebbe chiederlo a chi lo scrive. Noi siamo assolutamente compatti, pur con sensibilità diverse, ma siamo compatti. Le dico solo una cosa, che il livello occupazionale in questa provincia è destinato a crescere. Perché noi nei prossimi giorni, stando alle voci che sento, alle sciocchezze che si dicono, dovremmo avere un'aggiunta di 70 assessori e una presidenza del Consiglio Comunale di almeno 10 presidenti. Quindi, voglio dire, dobbiamo stare attenti a quello che si dice, a quello che si sente. La verità è che questa coalizione di centro è assolutamente compatta. Però questa coalizione di centro è più a destra del centro-destra? È più a centro del centro-destra? È più a destra del centro-destra? No, no, chi lo dice questo? Assolutamente no. Questa è una coalizione di centro che trae proprio lo spirito della nostra coalizione, costituito proprio dal fatto che noi siamo alternativi, alla destra e alla sinistra. Quindi non siamo assolutamente posti al di là, più a destra della destra. Siamo centro a tutti gli effetti. Alle scorse amministrative il centro ha appoggiato il centro-destra, ha fatto vincere il centro-destra. Poi il centro-destra, in virtù degli attuali fatti giudiziari, vi ha scaricati. È per questo che non ha appoggiato il centro-destra? A noi non ci ha scaricato nessuno. Siamo noi che non abbiamo assolutamente ravvisato in questo centro-destra i presupposti per andare insieme. È diversa la situazione. Noi non ci ha scaricato e non ci facciamo scaricare nemmeno. Noi decidiamo solo chi caricare sul nostro carro. È una cosa diversa. Quindi ci saranno dei cambiamenti per la città di Vibo? Saranno dei cambiamenti. Io devo prendere atto, purtroppo, che non sono riuscito a veicolare appieno la portata, il senso, il contenuto del nostro messaggio, del nostro progetto, della nostra visione di città. Devo prendere atto perché non siamo arrivati al ballottaggio. Detto questo, abbiamo preso circa un terzo dell'elettorato dei voti, il che significa che abbiamo una consistente parte dell'elettorato che è con noi, che si riconosce sulle nostre posizioni. Ed è importante, non è una cosa trascurabile questa, perché ci darà la forza per fare eventualmente una opposizione importante, seria, costruttiva, sempre nell'interesse della città. Io sono convinto che attraverso questi percorsi, che noi riusciremo a tracciare bene insieme al Consiglio Comunale, anche quelli che non ci hanno votato impareranno ad avere fiducia in noi.